Una fortissima esplosione nella notte, uno stabile squarciato ed un anziano gravemente ferito sotto le macerie. Tragedia a Mesagne nella notte dove al civico 26 di via Mincio, strada costeggiante via Indipendenza a poche centinaia di metri dal supermercato Penny, è rimasto vittima dello scoppio di una bombola a gas un anziano di 77 anni, Giovanni Acquaviva, che nella casa vive solo e sul quale sarebbe anche caduta una trave che lo avrebbe bloccato. Il probabile malfunzionamento di una stufa a gas, secondo indiscrezioni, avrebbe causato il buato che nella notte poco prima delle due ha svegliato i vicini ed ha proiettato polvere, calcinacci, pezzi di muratura e mobilia per strada e contro i palazzi circostanti. Sul posto, in seguito all'episodio, una ambulanza del 118 e l'intervento di due squadre di vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo scavando fra le macerie per poter estrarre il 77enne e lasciarlo alle cure dei sanitari che ne hanno disposto l'immediato trasporto all'ospedale Perino di Brindisi dove è arrivato in condizioni critiche. I pompieri, che hanno lavorato fino alle 6 di questa mattina, hanno recuperato quattro bombole di GPL messe immediatamente in sicurezza considerato il forte odore di gas che si avvertiva ancora nell'aria. Ingenti i danni, l'appartamento è quello che conteneva e è andato distrutto e anche all'esterno sono visibili i danni che l'esplosione ha provocato. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mesagna in collaborazione con i colleghi di San Vito dei Normanni.